Prima che arrivi l'onore, che credo state aspettando un po' tutti, vorremmo farvi ascoltare un video di tratto dagli anni 60-70, quando Michael e i suoi giovani fratelli già si vivono in tutto il mondo, e vorremmo farvi ascoltare il fatto alla vecchia maniera. Vai, chiama! Grazie a tutti, come on! Oh! Grazie a tutti 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 Grazie a tutti